Andiamo avanti invece per la posta del Tg Post, il viaggio del telegiornale da nord a sud dell'Italia e quest'oggi vi vogliamo aggiornare proprio sull'importantissimo progetto Polis perché i lavori vanno avanti sul territorio, questo per l'adeguamento tecnologico appunto degli uffici postali che fanno parte del progetto. Progetto che coinvolge, lo ricordiamo, 1500 uffici postali entro la fine dell'anno, entro il 2023 e poi si estenderà a 7.000 uffici postali dei comuni appunto con meno di 15.000 abitanti. Il viaggio del telegiornale oggi ecco qui dove arriva a Tolmezzo perché tra i primi uffici postali ormai operativi con i servizi della giustizia amministrativa c'è proprio il comune di Tolmezzo con quasi 10.000 abitanti, siamo in provincia di Udine e all'inaugurazione rappresenta anche il presidente vicario del Tribunale di Udine, Francesco Venier. Allora andiamo a vedere. Questa iniziativa di poste italiane è meritoria, molto importante perché appunto consente ai cittadini di non incontrare i disagi, di non rispostarsi di 50 chilometri per svolgere le attività elementari come la consegna di un rendiconto o la stessa domanda di amministrazione di sostegno possono farlo nel loro paese e quanto più questa attività verrà decentrata a livello locale anche nei piccoli centri tanto meglio sarà.